Quello di cui vi parlo oggi è uno degli argomenti centrali del nostro corso. In particolare vi parlo delle equazioni di Richards, di cui peraltro abbiamo già raccolto tutti gli elementi nelle lezioni scorse. L'equazione di Richards altro non è che l'applicazione della legge di conservazione della massa applicata ad un volume di controllo di acqua che si muove nei mezzi porosi. Vi ricordo qui nella sostanza quale sia l'espressione differenziale della legge di conservazione. Qui vedete un cubo, un parallelepipedo in uno spazio tridimensionale e di dimensioni Δx, Δy e Δz. C'è un flusso di acqua che proviene da sinistra, che è Jv, Δy, Δz, cioè una portata di acqua. Jv è il flusso, quindi è una velocità metri al secondo, Δy è una lunghezza, Δz è una lunghezza, quindi metri al secondo per metri per metri fa metri cubi al secondo. Nella faccia opposta a distanza Δx che cosa succede? Si avrà un flusso che è Jdw di x più Δx. Ma questa parte può essere sviluppata in serie di Taylor al primo ordine, soprattutto se poi penseremo che il nostro cubo diventi di dimensioni infinitesime. L'espressione di Jdw di x più Δx, espressa in serie di Taylor, o altro non è che Jdw più djdw su dx per Δx per Δy per Δz. Noi conosciamo che il bilancio di massa si fa facendo la differenza fra quello che entra e quello che esce. naturalmente vi potrebbero essere delle trasformazioni all'interno di cambiamento di fase, all'interno del nostro volume di controllo, ma per il momento noi le trascuriamo. La variazione di massa complessiva in realtà si scrive come dmw su dtvw. nel tempo. Quindi, andandola ad esprimere in funzione della densità dell'acqua ρv e del suo volume, vw, diventa d su dt di ρvw. Noi assumiamo la densità dell'acqua costante, ragione per cui dmw su dt è uguale a ρvw dvw su dt. Ed è per questa la ragione, il fatto che consideriamo la massa costante, che la nostra, che parlo sempre di conservazione della massa, anche se in realtà io vi scrivo la legge di conservazione dei volumi, cioè l'equazione di continuità. La variazione volumetrica a sua volta, che è quella che vedete nell'equazione di conservazione della massa, qui nella seconda equazione in basso, si può esprimere attraverso un trucco, cioè moltiplicando e dividendo per il volume del suolo. Infatti noi sappiamo che il volume dell'acqua è diverso dal volume del suolo. Il volume dell'acqua soprattutto nei mezzi insaturi è inferiore o uguale alla porosità. Il suolo invece contiene anche le particelle di materiale nelle quali l'acqua non penetra. In questo caso osserviamo quindi poi che vw diviso v con s è proprio θw contenuto a dimensionale di acqua che noi abbiamo introdotto alcune lezioni fa. θ è adimensionale, ripeto. Quindi la nostra variazione di volume nel corso del tempo è v con s dθw su dt. Ritorniamo dunque al nostro flusso elementare di acqua. Avremo che la variazione che abbiamo scritto nelle slide precedenti dovrà essere uguale a quello che entra meno quello che esce. Nella slide precedente avevamo visto la differenza fra e anche qui in questa immagine vediamo la differenza fra due lati opposti paralleli al piano Zy. E' ovvio che la stessa considerazione si possa fare su tutte le altre facce del cubo completando quindi l'espressione dei flussi in qualunque direzione essi avvengano. Questo è quanto si deduce dalla figura scritto in maniera più chiara di prima e questo è quanto invece risulta se consideriamo tutto tutte le facce. In particolare abbiamo il primo addendo è la variazione lungo l'asse X il secondo addendo è la variazione lungo l'asse Y il terzo addendo è la variazione lungo l'asse Z. Ognuno di questi elementi è ottenuto tornando indietro qui forse vi chiedete perché qui compaiono solo delle derivate mentre le derivate compaiono solo perché il termine JV delta X delta Y delta Z si cancella con quello nella prima faccia nella faccia in cui il flusso è considerato entrante. Quindi rimangono questi elementi che rappresentano nella sostanza quello che si chiama teorema della divergenza. Una parte che messo tutto assieme da questo da questa espressione cioè d t v su d t fatte le dovute semplificazioni è uguale alla divergenza del flusso JDV che io qui ho messo come funzione di ψ noi sappiamo che è funzione anche di z e ψ in questo caso è quella quantità che in precedenza ho chiamato suzione. vi sarebbe il volume del solido che va a moltiplicare ambo i membri ma questo è stato e questo è stato tolto vi sarebbe anche la densità dell'acqua ma anche questa è costante è in entrambi i membri ed è stata tolta mentre il flusso JV è il flusso volumetrico di acqua non è il flusso massico. Nella sostanza questa è l'equazione di Richards dθw su dt uguale divergenza del flusso flusso che dovremmo dare secondo un'espressione che noi abbiamo già determinato cioè se il suolo fosse saturo al posto di JV sostituiremo la legge di Darcy se invece il suolo è insaturo come in questo caso andremo a sostituire la legge di Buckingham. non c'è nulla di particolarmente complicato in questa equazione è stata formulata per la prima volta nel 1931 da Richards che aveva ripreso in mano gli studi di Buckingham del 1907 e per quanto riguarda il primo membro dell'equazione che ora scrivo come che si scrive come derivate parziali θ cioè se la guardiamo scritta in questo modo l'equazione risulta funzione di due variabili θw e ψ ho una sola equazione e due variabili devo quindi eliminare una variabile e in questo caso uso un'equazione costitutiva le equazioni costitutive che io andrò ad usare sono le curve di tensione idrica che vi ricordo rappresentano una relazione fra il contenuto d'acqua e in particolare la suzione e l'energia dell'acqua contenuta all'interno del volume di controllo avevamo ricordato che le le curve di ritenzione idrica non sono non sono delle in realtà delle curve presentano dei fenomeni di isteresi però avevamo anche detto che noi non ce ne curiamo in effetti qui usiamo θ sarebbe θw rispetto alle slide di prima usiamo θ e deriviamo la funzione di θ rispetto a ψ quindi ho un dθ su dψ per un dψ su dt e vi ricordo dθ su dψ l'abbiamo chiamato in precedenza capacità idraulica e vi ricordo anche che ne abbiamo dato un'interpretazione a partire dalla dimensione dei pori il c di ψ ha a che fare con la distribuzione dei pori utilizzando la legge di Young Laplace insieme alla distribuzione dei pori possiamo ottenere l'espressione di cdψ quindi questo alla fine sono le equazioni di Richards le possiamo nascondete un termine alla volta altrimenti qui sembrano troppo complicate la prima in alto è la completa esplicitazione di questa equazione qua in cui al posto del flusso è stato messo il flusso secondo Buckingham e al posto della derivata temporale di θ w è stata sostituita la sua espressione con la capacità idraulica la legge di Buckingham vi ricordo in questo caso che cosa contiene contiene k di θ w che in questo caso è la conducibilità idraulica che è funzione del contenuto d'acqua e il gradiente delle forze che sono considerate agire all'interno del nostro mezzo poroso le forze che agiscono all'interno del nostro mezzo poroso sono psi che nel nostro caso è la capillarità e z che è la gravità l'espressione di k di θ w peraltro non è semplice e se vi ricordate noi l'avevamo ottenuta attraverso beh non avevamo fatto tutta la derivazione di muale ma eravamo partiti da un certo punto per dire che è uguale la conducibilità idraulica a saturazione e poi a seconda di quali curve di ritenzione idrica si usano può essere una funzione delle curve di ritenzione idrica esplicitata nelle ipotesi che avevo mostrato in particolare è funzione della DSE che è il contenuto d'acqua relativo un numero che varia fra 0 e 1 essendo uguale come vedete scritto sotto a θw meno θr diviso φs che è la porosità oppure θs come lo rappresento in altre volte meno θr l'espressione sembra complicata una cosa che vi voglio far rilevare che la conducibilità idraulica qui dipende da un parametro che è m che è lo stesso parametro che compare nelle curve di Van Genuchten che vedete descritte nella terza equazione infatti come vi avevo anticipato alcune slide prima ho bisogno di una relazione fra il contenuto d'acqua del suolo θ e ψ e in questo caso uso le curve parametriche di Van Genuchten che cosa sono queste curve parametriche sono delle curve ottenute per via sperimentale interpolando dati di misura di suzione e di contenuto d'acqua sono state formulate da Van Genuchten nel 1981 e hanno avuto una certa fortuna all'interno della comunità ragione per cui sono uno degli oggetti che noi consideriamo in queste nostre lezioni in particolare le curve di Van Genuchten hanno tre parametri espliciti che sono α, M ed N come vedete e ma ne hanno anche due di nascosti una è θR che è il contenuto d'acqua residuo e l'altra è la porosità FI con S altri parametri all'interno di queste curve ce ne sono certamente sono la conducibilità idraulica a saturazione K con S e poi all'interno della capacità idraulica naturalmente non compare nessun altro parametro che non sia già contenuto nelle curve di Van Genuchten perché la capacità idraulica nella sostanza è la derivata di queste di queste curve di Van Genuchten fatta rispetto a PSI e come si può rimaneggiare l'equazione di Richards beh abbiamo la divergenza di un prodotto e quindi dobbiamo fare le derivate e un po' di calcolo vettoriale che qui che qui sintetizzo brevemente è che la divergenza di un prodotto di cui K K noi abbiamo il prodotto K di θ V K in questo caso è uno scalare poi ho un gradiente la divergenza di un prodotto di questo tipo è uguale al gradiente di K scalare il gradiente di Z più PSI e in effetti questo è quello che è scritto nella che è scritto nel primo termine a destra dell'equazione in alto è il gradiente di K K di θ è un campo scalare nello spazio dipende da come è distribuito θ W nello spazio il puntino in mezzo significa prodotto scalare e poi c'è il gradiente dei potenziali Z più PSI ho anche un secondo termine perché devo considerare la derivata K per la derivata per K per la divergenza del gradiente di Z più PSI che è il secondo termine la divergenza del gradiente diventa un operatore che si chiama Nabla in particolare Nabla quadrato che è un operatore che è associato normalmente ai processi diffusivi e in questo caso ho Nabla quadrato Z più PSI quindi il secondo termine dell'equazione in alto si legge K θ W più Nabla quadrato Z più PSI come si possono classificare questi termini beh si possono ulteriormente sviluppare nel senso che il gradiente di Z più PSI si può si può spaccare in due una parte abbiamo il gradiente di Z il gradiente di Z ha una sola componente verticale nella direzione di Z il gradiente di PSI è quello che è il gradiente della soluzione in tutte le direzioni poi ho il Nabla quadrato che vi ricordo è una derivata seconda rispetto ai termini Z e PSI la derivata seconda la derivata prima di Z ha una sola componente nella direzione di Z la derivata seconda di Z ed è una costante la derivata prima la derivata di una costante è zero quindi il gradiente al quadrato di Z il Nabla quadro Z è zero mentre rimane solo il termine Nabla quadro PSI nell'ipotesi che CDPSI sia diverso da zero cosa che non è sempre verificata per dire la verità posso riprodurre la formula che ho in basso cioè divido tutto per uno su CDPSI e ho il primo termine il primo termine è un termine che è legato fondamentalmente alla gravità perché il gradiente di Z che compare all'ultimo termine mi identifica un moto nella direzione della gravità poi dipende come scelgo gli assi se gli termini se i coefficienti se metto i coefficienti positivi o negativi eccetera mentre il secondo invece è un termine che si potrebbe definire un termine avvettivo in effetti uno su CDPSI per il gradiente di K in questo caso ha le dimensioni di una velocità e si chiama celerità non sto qui a giustificare ulteriormente questo nome ma è la velocità con cui si propagano le onde di pressione PSI nel campo di moto in effetti questo è quello che pongo in evidenza in questa relazione il primo nella sostanza il primo termine a sinistra che è tutto a sinistra in questo caso è un termine è un termine che si chiama derivata complessivamente che si chiama derivata totale della PSI e contiene un termine che è la derivata che è la derivata nel tempo cioè la dipendenza esplicita del tempo di PSI più la variazione di PSI che è dovuta al fatto che il fluido il campo di PSI si muove è interessante questa velocità di avvezione della pressione è una cosa interessante perché significa che ci può essere un campo di pressioni che si muove con velocità diverse dalla velocità dell'acqua questo è un fatto che voi date per scontato nella meccanica dei fluidi in cui in effetti andate ad analizzare è meno scontato riconoscerlo anche nel campo dei fluidi insaturi degli altri due termini che stanno a destra abbiamo già parlato questa si chiama derivata totale come come vi ho detto e questo è un termine diffusivo che conferisce all'equazione di Richards le caratteristiche di un'equazione che si chiama parabolica in questo caso il termine K di ZW diviso Cdpsi si chiama diffusività idraulica in certe condizioni di cui noi magari poi andiamo a vedere cosa succede Cdpsi cresce molto cioè Cdpsi tende ad essere prossimo a zero in particolare in prossimità della saturazione questo significa che la diffusività idraulica tende ad infinito e quindi il campo di pressione si può muovere si può diffondere molto velocemente questa è una classificazione ulteriore dei termini e rappresenta più o meno una spiegazione di tutte le cose che agiscono nel caso dei fluidi insatoli il termine di gravità un termine di avvezione che però è legato all'avvezione del campo di pressioni e un termine diffusivo ci sono delle domande e Grazie a tutti.